Sono sempre io a disturbarvi. Dimmi, che succede? Sono nei guai. Non trovo la vasca da bagno. Per forza, questi appartamenti non ce l'hanno. Non ce l'hanno? Ci sono soltanto bagni con una doccia. Aspetta, hai preso un appartamento qui senza saperlo. Vuol dire che devo costruirla da solo? Non ho detto questo. Qui di solito andiamo nei bagni pubblici, i sentou. Sentou? Sì, esatto. Capisco. Quindi dite che devo lanciare un grido di battaglia? Sentou, dove si trova il bagno? No, ma quale battaglia? Cos'hai capito? Puoi andare a questo bagno pubblico? Vi ringrazio molto. Bene, a questo punto io vado. A quanto pare ho un vicino un po' invadente. È già notte. Questa giornata è volata. Ultimamente ci sono stati un sacco di rapimenti di bambini. I genitori non controllano i figli. Aspetta, forse è meglio che lo accompagni. Alla fine siete venuto anche voi in battaglia. Che ho fatto di male?